Siamo a Sanremo, Radio Bruno In diretta qui da Sanremo a Radio Bruno, Lorenzo Fragola Un piacere, ciao Benvenuto Grazie mille Allora, tu hai a che fare anche con una delle nostre regioni perché comunque hai vissuto per un anno tra Bologna e Modena Sì, sì È stato un anno, scusami io, ma mai lontano No, comunque sì, è stato un anno studiato al Dams di Bologna E poi ero fidanzato con un ragazzo di Modena che è catenese che abitava a Modena e studiava a Modena quindi faceva avanti e indietro con il regionale Stavo raccontando che veramente lo prendeva ogni giorno quindi ormai sapevo il binario, le cose No, comunque sì, un anno ho vissuto Torniamo a Sanremo Allora, un 2014 con X Factor 2015 che inizia con Sanremo Dei palchi importantissimi Sei qui, canti in italiano, siamo uguali Un pezzo pazzesco Grazie Mi piace da tutti Grazie, davvero Sì, quindi due anni che uno che finisce bene e l'altro che inizia bene Speriamo che finisca anche bene il 2015 No, comunque, sono felice davvero Cioè, spero che vada bene Siamo uguali perché è una canzone a cui tengo quindi speriamo bene Vogliamo descriverla un po' agli amici in ascolto? Ma allora, è una canzone che parla di una storia d'amore Beh, ce ne sono tante Però, parla di una storia d'amore che ormai è finita Però, piuttosto che portare a rabbia un po' di rancore che di solito finiscono così ecco, non finiscono bene di solito le storie d'amore No, è un augurio che il protagonista rivolge alla propria ex a quel punto augurandole di trovare la propria strada e capire quanto vale quindi di questo parla bene Sul palco con te e in gara come Big ci sono anche dei tuoi carissimi amici che sono il volo Vi siete, non so, dati dei consigli Chi ti ha aiutato magari ad affrontare questa emozione di questo palco che fa tremare le gambe a quelli anche che lo calcano da diverso tempo? No, sì ci siamo conosciuti la prima volta le prime esperienze che riguardavano Sanremo poi siamo usciti un bel po' di volte quindi sono venuti a vedere una partita o una cena quindi ormai ci conosciamo bene No, la cosa bella è che abbiamo un rapporto per cui ci scambiamo tanti consigli ma dal punto di vista umano succede appunto come affrontare magari il palco loro hanno una certa esperienza soprattutto all'estero perché hanno fatto concerti pazzeschi poi è un'esperienza diversa che è quella di X Factor quindi diciamo che abbiamo delle esperienze diverse che comunque possono portare a un bel confronto quindi sono felici di questa cosa non è da tutti ecco trovare in questo contesto in cui tra concorrenti delle persone con cui parlare liberamente e sinceramente Parliamo delle cover una bellissima canzone hai scelto che emoziona sempre è una canzone che veramente secondo me è proprio bella cioè sono tanti i brani belli però in particolar modo questa perché parla di questo mestiere quindi un po' della paura di affrontare il palco del rimpianto magari non l'aveva affrontato in modo giusto la serata precedente del viaggiare, di andare di città in città e quindi credo sia perfetto in questo momento quindi un po' come se facessi un augurio spero che Ron non si arrabbi magari mi chiami e mi dice ma che hai fatto? perché è una città per cantare è una città, non l'ho detto perché è una città per cantare quindi spero che ma gli farà sicuramente piacere lo spero hai sempre la catenina che ti ha regalato il tuo papà sempre sempre con te ora in questo momento non l'ho messa ma pur di non perderla perché è importante metterla quando serve se non serve non la metto se no la perdo perché conoscendomi quindi comunque sì tra l'altro è la che mi fa così cenno vai quindi lo salutiamo grazie mille di essere stato qui con noi grazie Lorenzo e se puoi salutare gli amici di Radio Bruno con piacere saluto tutti gli amici che seguono Radio Bruno vi mando un bacio Radio Bruno